Il conto alla rovescia ufficiale per l'uscita dell'esplosivo libro di memorie del principe Ferri, è iniziato. A soli quattro giorni dall'uscita, fonti reali hanno suggerito che il principe William sarebbe stato devastato dal libro in uscita, etichettandolo come una totale distorsione della realtà. L'uscita del libro è prevista per il 10 gennaio, e si dice che sia stata messa in atto una stretta sicurezza prelancio per garantire che i dettagli non vengano pubblicati fino alla data di uscita ufficiale. Tuttavia, i dettagli sono emersi dopo che le copie di Spare sono state accidentalmente messe in vendita in Spagna. Parlando della relazione tra Ferri e la famiglia reale, una fonte vicina alla famiglia reale, ha affermato che Ferri non sarà mai perdonato per aver rivelato conversazioni intime con suo fratello maggiore e suo padre. Tra i dettagli secondo cui William ha attaccato fisicamente Ferri, fonti hanno affermato che il duca di Sussex, sarebbe stato etichettato come traditore a causa del libro in uscita, e delle sue affermazioni esplosive. Un ex membro dello staff della famiglia reale, che conosce entrambi i fratelli mentre lavorava per la famiglia, ha detto che non ci sarebbe mai stato un modo per tornare indietro per Ferri. La fonte ha aggiunto. Credo che non sarà mai perdonato. Dopo tutto quello che ha detto sulla privacy e l'intrusione, questo è difficile da comprendere. Le sue parole sono così feroci e mirate. La fonte ha continuato. Non dubito che ami ancora suo padre e suo fratello, ma è impossibile vedere come non rimpiangerà amaramente la sua decisione di farlo. Grazie. 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 Grazie.